Uno schianto tra due auto non ha lasciato scampo a Ivan Barusso, 41enne, che lavorava a San Giorgio di Livenza, frazione di Caorle, ma era residente a Mestre. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Porto Gruaro, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco su segnalazione di alcuni automobilisti, mercoledì verso le 21.30, nel territorio di Sastino di Livenza, in località Sette Sorelle, i due veicoli si sono scontrati all'altezza di Via Contarina, sulla provinciale 59. Sembra che viaggiassero nello stesso senso di marcia. Sono stati inviati anche i sommozzatori e l'autogru dei vigili del fuoco per il recupero dell'auto condotta da Barusso, ed il secondo veicolo guidato da una 28enne che nell'impatto è finita fuori dalla carreggiata, poco distante da un bar, in un fossato praticamente privo di acqua. Lievi i traumi riportati dalla ragazza, per il 41enne invece i medici intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I rilievi sono durati a lungo e la notizia dell'accaduto ha raggiunto in poco tempo sia Sastino di Livenza sia il territorio di Caorle, dove la vittima, padre di famiglia, era conosciuta anche in virtù della sua attività lavorativa. Gestiva un'azienda nel campo dell'allestimento di veicoli ricreazionali. Nei mesi scorsi era rimasto coinvolto in un incidente frontale, sempre nella stessa zona dello schianto di mercoledì sera.